idea zero siamo con matteo e luca luca da poco padre no no allora sono andato a convivere quello sì infatti sono passato da però sono felice perché comunque c'ho una brava ragazza già una donna di casa sono molto felice di stare con lei e vediamo dove ci porterà il vento come vivere senza cioè senza persone magari un genitore un qualcuno che faccia però alla fine Alice fa le cose in casa no Alice è quello che ti diceva una grande donna di casa io l'aiuto l'aiuto tanto magari stendere pulire per terra e? no buttare la pattumiera lei diciamo che ma allora ma anche perché stirare lo vuole fare lei e io dico va bene la lavatrice la vuole fare lei va bene cucinare vuole farlo lei no però ci diamo ci diamo una grande mano c'è tanto affiatamento sarà perché è l'inizio non lo so però va bene speriamo che continui così come come iniziata esatto mentre la vita nella nella casa in stardust com'era sempre con me tutti e due lui ci vive ancora io ci vivo ancora va bene ma alla fine anch'io cioè nei giorni liberi vado lì no diciamo che ti aiuta tanto a livello mentale a crescere perché comunque devi convivere con altre dozzine di persone sei in una camera insieme ad altri maschi dovete dividervi il bagno gli armadi così quindi ti aiuta anche a a responsabilizzarti ma quindi non la prendete come una vacanza cioè una vacanza magari tutti assieme magari magari e come divisa la giornata dentro allora parto io diciamo che lui l'ambito scuola l'ha abbandonato un po da qualche annetto abbandonato abbandonato sembra che mi sono ritirato no no sono ragioniere io ragazzi ragioniere campo lunghi campo lunghi io mi sono diplomato quest'anno quindi anche abbandonato abbandonato e diciamo che durante la mattinata la maggior parte dei ragazzi va a scuola e dopo la scuola torni verso l'ora di pranzo due due mangi dalle due fino alle sette e mezza otto non ti fermi anche un secondo fai contenuti o hai la riunione dove stabilisci oggi fai questo questo e questo la radio sponsor la radio si poi ci sono vari corsi all'interno allora quest'anno abbiamo fatto recitazione edizione autodifesa inglese inglese canto anche però poi dipende all'inizio cioè loro vogliono che provi tutto e poi ti specializzi tipo io dj che è una cosa che personalmente non mi interessa ho fatto le prime due lezioni e poi ho detto cioè io voglio diventare conduttore sportivo cioè fare il dj non è proprio la mia strada mentre fare edizione recitazione comunque fare radio parlare fare dj per il mio percorso non l'ho trovato interessante lui invece è proprio la sua nicchia a te ti piacerebbe fare il dj come sogno quello non ho ancora bene idee chiare però sarebbe quella sarebbe una di quelle in cui vorrei provare perché come musica cioè io ascolto la musica 24 ore su 24 mi piacerebbe sì quindi adesso che l'hai provato sai già che magari è la tua strada sì però magari quest'anno scopro anche altre cose quindi per ora ho quello è un casino è un casino bravo è un casino come vi vedreste tra dieci anni spero non con la panza perché guarda che prima di fidanzarmi prima di andare a convivere pesavo 78 chili adesso ne peso 91 spero che spero che quando uscirà questo podcast sono più in forma no allora il mio più grande sogno sincero essere padre di famiglia con due bellissimi bambini star bene a livello economico a livello di salute e godermi la mia vita condurre una bella vita ed essere un esempio per i miei figli e per la gente che mi guarda quindi un fratellino a charmi o altri due non so neanche se ci sarà charmi più quando uscirà sto podcast no ma perché si evolve da dieci anni da dieci anni? ah è vero non lo so super dj che gira ogni giorno eh ci vedrà che tra l'altro ti sei diplomato però non vorrai continuare con un'università per ora prendo quest'anno come diciamo mi concentro al 100% su quello che voglio fare ok però magari mi sveglio un giorno e dico facciamo anche a scuola finiamo bene a scuola comunque l'ho finito al diploma e quando è che avete iniziato cioè quando siete entrati nella stardust? io sono entrato in stardust marzo 2022 quindi un anno e mezzo fa io settembre l'anno scorso settembre l'anno scorso sì cinque mesi dopo di me cos'è che è stato a farvi dire sì dai entro oppure no voglio stare per i cavoli miei essere indipendente con i social? inizialmente ho detto dai cavolo entro perché l'ho vista veramente come un'opportunità cioè è stato più un perché non provare cioè ho detto provo vediamo cioè non è che sono vincolato a vita se non mi piace capisco di fare altro che invece mi sono innamorato subito di stardust lo dico sempre rifermerei altre dieci volte col sangue perché mi hanno proprio cambiato la vita stessa cosa anche io ne ho parlato prima che mi hai è stato molto difficile spiegare cosa fosse quello sento questo immagino molto li ho convinti non so come ho detto provo un'esperienza un anno in casa perché dopo quest'anno magari non so non mi trovo bene potevo tornare a casa invece tutto il contrario anzi mi sta portando tante cose sono fierissimo di essere qua lo rifarei mille volte anch'io grazie appunto a stardust mi ha aperto tante porte ovvio sono solo all'inizio però se dovesse andare bene avrò una bella strada spero ma tutti quelli di stardust agenzia se volessero potrebbero entrare nella casa o sono no no la casa la casa vengono scelti 12-15 ragazzi da maschi e femmini esatto in tutto quanti sono più o meno in agenzia? ah 500 mi sa ah non lo so sono tantissimi c'è chi chi lavora fuori dalla casa magari pure al sud perché la casa è in Brianza mentre ne hanno aperto un'altra Roma anche sì quella è più orientata sul cinema sul cinema e c'è gente più grande sì dai 18 ai 27 sì però lì è uno può avere anche 15 anni se uno già ha 15 anni al focus del cinema può andare lì sì quindi sono piccole le persone che vanno in stardust sì sono tutti i migliori adesso soprattutto adesso che la vedono come una sorta di accademia puntano tanto sui ragazzini per farli crescere tipo c'è un range d'età che va da ma allora quando sono entrato io c'era un range d'età dai 18 cioè da marzo 2022 a settembre 2022 l'età andava dai 18 ai 25 26 invece quest'anno mi sono ritrovato il nonno della casa perché il range andava dai 13 ai 23 che sono io questa fama qua da giovane come si vive? allora io quello che dico sempre a loro e anche ai ragazzini che sono molto più piccoli cioè io ho avuto la fortuna secondo me che io mi sono affacciato sui social a 21 anni e quindi ho letteralmente mi sono vissuto tutta l'adolescenza ho finito i miei studi e mi sono preso il diploma da ragioniere ho fatto l'impiegato ho lavorato al McDonald's quindi ho visto anche il mondo umano al di fuori dei social e quindi entrando a 21 anni nel mondo dei social ero già soddisfatto invece se penso a un ragazzino di 15 anni adesso che comunque è un personaggio pubblico io se penso a 15 anni non posso andare in giro perché mi fermano tutti ok? io sono felicissimo di aver vissuto la mia adolescenza tranquillamente con i miei amici adesso invece sono obbligati veramente a bruciare le tappe subito infatti si vede che alla fine l'andare in giro influencer andare in giro vuol dire ogni 5 metri fermarsi fare le foto cioè non respire esatto che poi vabbè tantissima gente non lo capisce cipiglia per il cur è arrivato il papa così però c'è nel senso quando tanti ragazzini ti fermano e giustamente non direi mai di no a nessuno perché io sono grato a qualunque persona che mi segue ma esempio il mese scorso siamo andati a Napoli per attraversare via Toledo abbiamo iniziato alle 2 del pomeriggio e abbiamo finito alle 9 di sera perché siamo rimasti bloccati tutto il tempo è bellissimo e per l'amor di Dio perché vuol dire che hai tanto affetto così però metti che uno vuole prendersi una giornata tranquilla vuole andare a fare via un weekend che infatti per andare in vacanza vado sempre all'estero perché andare in Italia cioè se tu vai a Riccione Gallipoli Jesolo così non vivi non sei nemmeno libero di fare quello che vuoi fare perché poi avrai paura uno fa un video uno fa una foto devi basare tutto sul fatto che se vai in giro con quei tifero quindi trovi un posto in cui esatto isolato diciamo e oltre a TikTok te ora stai iniziando cioè stai continuando su YouTube allora hai aperto un canale diciamo che TikTok è stata vabbè la più grande rampa di lancio e giustamente quando hai tanto pubblico su TikTok e vedi che comunque il tuo pubblico ti è fedele si è legato a te cioè magari ti scrive dici cavolo perché tenerli solo su TikTok quando potrai fare anche tanto altro e mi sono messo sia su Twitch che su YouTube e Instagram quindi tutti e quattro i social di spicco per i giovani tra l'altro su YouTube ho anche un canale insieme ad Andrea Fratino quindi ho due canali su YouTube e YouTube io lo dico sempre che secondo me è il social migliore in assoluto per farti conoscere dalle persone per fidelizzare esatto per fidelizzare di più perché comunque su TikTok magari la gente vede video di 15 30 secondi un minuto mentre su YouTube vede magari video di un quarto d'ora ti sente parlare ti conosce però c'è da dire che TikTok riesce ad arrivare a più persone perché i contenuti sono random invece i feed di YouTube è sempre molto più personale però quello che dico secondo me è 100.000 visualizzazioni su YouTube si hanno un altro peso 2 milioni su TikTok cioè lì sono 100.000 persone che vogliono vedere il tuo video 2 milioni sono 2 milioni di persone che scorrono per te e lì capita il trend sono 100.000 persone che sono interessate a quello che hai fatto a quello che hai raccontato e ora stai facendo più che altro video sul calcio sullo sport nel canale con Andrea Frattino ho proprio un canale indirizzato sul calcio invece sul mio appunto per prendere un po' tutto il pubblico a 360 gradi faccio vlog la vita di coppia mia famiglia i miei amici i viaggi cioè per fare un po' di tutto esatto e prima di aprire il canale YouTube te eri già stato su YouTube grazie se non sbaglio a ZV Federico Marconi allora io sono nato vincitore io sono nato grazie a YouTube pallone d'oro di TikTok 2022 che l'ho vinto e lì quando andavo in giro io mi sono reso conto gli ho detto ma cavolo ma YouTube che figata è andavo in giro non ero più né Luca Campolunghi né il TikTok ero il pallone d'oro il sogno no vabbè sì vabbè le ho messi e poi anche con la YouTuber League la 100 tiri che comunque sapendo giocare a calcio cioè nel senso alla fine ho giocato fino in promozione ero un dignitoso attaccante diciamo cioè mettersi a livello di YouTube che è a livello content cioè i ragazzini veramente fai gol e ti vedono come il loro idolo è una cosa bellissima immagino che uno che cioè per un ragazzo che sogna di fare il calciatore già andare magari a fare una partita con il tifo i ragazzini che ti tifano bellissimo ti chiedono le foto prima di entrare ti fanno sentire un atleta perché poi sempre Napoli è la piazza più calda d'Italia Napoli quando c'è stato Napoli-Juventus che eravamo fuori dai cancelli così a parte che c'erano tipo 5.000 persone ma per entrare ti lanciavano scarpe magliette ti fanno sentire veramente come se fossi un atleto e quindi c'è tu entri hai una pressione perché poi la gente dice magari nei commenti Leonida Tastiera i brosi stanno giocando la finale di Champions League ma realmente senti una pressione perché lì spagli uno stop ti fischiano cioè è roba fighi dici com'è possibile anche te ora stai giocando nella Juventus grazie a Luca sono entrato un po' anche ho giocato a calcio ero bravino poi non si sa perché ho smesso ma per motivi diciamo miei non avevo più voglia comunque penso il sogno di qualsiasi ragazzino è quello a cui piace giocare a calcio arrivare a giocare in Serie A piano piano con l'età capisci che pochissimi ce la fanno anche se vabbè ho giocato in una squadra di Serie D però ero piccolino e comunque questa cosa è bellissima perché il sogno che vi da piccolino non lo raggiungi però è comunque una cosa simile nel tuo piccolo tramite i social riesci a riportare la tua passione esatto quello è bellissimo che lì può essere una rampa per essere amato o se no per essere anche odiato è facilissimo è facilissimo mi ricordo con Andrea Fratino che tuo amico quando era successo quella cosa del pallone d'oro ha sbagliato gli ha preso una shitstorm assurda è perché un errore perché poi anche se ti scusi così comunque rimane rimane se la legano al dito poi devo dire si è ripulito tantissimo Andrea perché comunque non è facile tutti i giorni beccarti insulti insulti lui si è scusato pubblicamente poi si è si è messo la testa a posto adesso tranquillo bravo chapeau se ti chiedessero di giocare per un'altra squadra della youtuber league che non sia la juventus ah cioè devo giocare per non posso giocare alla juve si se dicono guarda è troppo squilibrato dobbiamo rifare la squadra ma forse ti direi ti direi alla Roma semplicemente per il fatto che Milan e Inter no perché figli uno juventino se va a Milan e Inter Napoli non parliamo Napoli no e Roma ti dico perché sono innamorato di Totti vabbè da sportivo Totti lo amo a priori e perché sono stramico di Federico Marconi è una delle persone davvero vere che conosci dai social nella realtà è veramente una persona genuina stupenda quindi giocherai per aiutarla a Roma a vincere aiutarla a Roma a vincere e si che no l'ultimo non l'avete vinto in finale se non sbaglio anche lì la youtuber league che truffa abbiamo vinto Marconi se stai guardando abbiamo vinto la youtuber league invernale in finale abbiamo vinto poi a Napoli la youtuber league estiva ha fatto la super finale Juve-Lazzo cioè la Juve ha vinto l'andata la Juve ha vinto il ritorno e ha perso la finale e ha fatto la finalissima Juve-Lazzo doveva vincere le due la Lazio almeno per vincere capito youtuber league a parte ai progetti futuri su youtube tipo questa youtuber league un pallone d'oro un qualcosa un format di fare tipo una cosa mia tipo i pirla svuciano il pallone d'oro ZV c'è la 100 tiri Marconi è bella questa non posso ancora spoilerarlo perché è una cosa però io e fratino cioè sul canale appunto che abbiamo dove trattiamo calcio e lei lanceremo un format dove parteciperanno tutti i più grandi youtuber è sempre una sorta di campionato spoiler quindi un qualcosa che dovrà reactare blu anche infatti speriamo vada bene perché sennò abbiamo la croce sopra vabbè alla fine chi è che non sa giocare a calcio quindi alla fine li butti tutti e giocano ma dalla fine non siamo in Serie A se qualcuno era veramente forte non giocava su Youtube Sergio Sergio ha finito la carriera ha 36 anni ha finito la carriera si è messo sui social e lui ha vinto l'ultimo no ma poi si vede che è un giocatore di calcio c'è nel senso si vede che è uno che ha giocato ad alti livelli infatti è un po' ingiusto che gioca con noi no però è un ragazzo d'oro veramente ma ti ha eliminato Gilbert si che ce l'è stata anche puntata a show no vabbè ho sbagliato completamente partita pace amen al fine è un bravo ragazzo anche Gilbert però voleva vincere cioè la sentenza ah beh ma è giusto cioè alla fine il pallone d'oro ti dà una visibilità che è impressionante comunque Gilbert come la youtuber che è appena nato sul web cioè far bene al pallone d'oro l'ha aiutato tanto poi è diventato il meme della chat di Blu quindi c'è un Marco e Strong saluta la stalla saluta la stella la stella c'è tutta la stella mentre te vorresti aprire qualcosa di tuo eh bella domanda allora dovrei chi lo sa forse aprire un canale un canale youtube dove cosa vorrei portare portare vlog quello che piace fare a me quello magari dove viaggio quello che faccio comunque raccontare me stesso a più persone per farmi conoscere meglio perché comunque tramite tiktok sì ho fatto cioè mi conoscono ma non non conoscono il vero me per quello che vuoi essere da tiktok esce poco alla fine sì magari da tiktok vedono io che metto il telefono con la canzone sotto pensano beh quello se la tira perché ha gli occhi azzurri le antigeni invece no cioè molto di più però capisco che è anche difficile da tiktok trasmettere quelle cose mi ricollego a quello che stai dicendo te sì che il tuo profilo di tiktok ha detto che porti comunque un contenuto cioè non quello che sei tu veramente ma lo fai perché magari tiktok impone il fatto di seguire dei trend o comunque cose che vanno virali giustamente vanno bene perché ti fanno fare più visualizzazioni no è vero questa cosa perché allora è un'applicazione che premia diciamo se tu fai un contenuto di qualità ok magari quel contenuto non raggiunge determinate visualizzazioni perché tiktok è un'applicazione semplice tra virgolette perché tu scrolli un video corto invece se tu riesci a entrare non dico nelle grazie dell'algoritmo però se fai già il trend appunto trend vuol dire che va di moda tra tutti gli utenti quindi se già hai un volto magari conosciuto è più facile se invece devi cercare di emergere l'idea è avere sicuramente fortuna perché anche lì è fortuna però devi anche riuscire a cogliere il momento giusto magari c'è quella quella canzone quel trend in quel momento ci sono anche dei segreti proprio per sì diciamo così quando ho iniziato io ho sbagliato cioè non è che ho sbagliato non sapevo determinate cose quindi ci ho messo magari due mesi in più per raggiungere non era consapevole di essere così figo no 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 è che magari facevo non so sette video al giorno e non me ne andavano neanche facevo cinquemila views a video ok e dicevo perché non va e dopo dicevo vabbè non lo faccio più poi riprovo poi con anche fortuna magari un video ti parte e dici eh forse inizia a capire come funziona poi non c'è un modo in realtà cioè tu fai il video magari sì col suono giusto ora non dico che sia un segreto però guardi un po' gli altri creator ti diciamo guardi ti ispiri ti ispiri magari sì o se no provi a fare tu dei suoni che magari non conosce nessuno sperando di lanciare tu il trend ok ma quindi questa parte qua non viene un po' anche gestita dalla dalla startup se voi avete qualcuno sopra che vi vi da una mano sotto questo punto di vista ci sono i creator diciamo cioè come posso chiamarli ma quelli che gestiscono la parte creativa sì appunto quelli che ci aiutano magari a costruire i video però non a dirci fai questo tu dici ho questa idea come potrei strutturare in maniera migliore in maniera che performa su un'applicazione magari ti danno dei tips dei consigli ma voi siete molto molto liberi sì a livello di contenuti sì se voi volete pubblicare un tiktok potete farlo senza chiedere a nessuno sì basta che non sia un tiktok compromettere è mai stato cacciato qualcuno dalla casa sì per quale motivo uno viene cacciato perché magari anzitutto per vivere dentro un'accademia comportamento umano certo è il di sopra del delle visualizzazioni però sì è capitato è capitato chi se n'è andato perché appunto non si trovava bene è capitato chi è stato mandato via perché non erano ai piani alti non erano soddisfatti di quello che stava facendo questo soggetto sì quindi è capitato ma invece il rapporto con le altre case c'è qualche no zero competizione zero rivalità esempio semplicissimo quando magari ci sono degli eventi cioè come io lui ma tutti gli altri creator di stardust e magari di altre case ci conosciamo ci parliamo anzi agli eventi se non conosci una persona sei quasi invogliato a conoscerla e da lì instauri un rapporto umano anzi è bellissimo conoscere altre gente quindi non c'è molta competitività dietro alla fine a tiktok cioè tra creators secondo me è tantissima allora dipende dipende qual è il tuo fine secondo me no no secondo me c'è tantissima invidia secondo me se il tuo video va non sono felice per te ma sono invidioso perché il tuo va il mio no secondo me allora chi è invidioso nel nostro mondo secondo me è abbastanza ignorante perché tu devi pensare principalmente al tuo perché l'esempio che ho fatto l'altro giorno se lui fa 20 milioni di visual e il mio video floppa non è che il mio video floppa perché lui ha fatto 20 milioni di visual cioè se lui avesse fatto due visual il mio floppa comunque non è che se il suo floppa il mio andava quindi devi pensare al tuo poi cioè se lui fa meglio di me cioè per me è come un fratello io sono solo contento per lui non è che sto lì a dire cazzo cioè se un video mi va male magari mi incazzo con me stesso non è che erosico perché qualcun altro va meglio di me poi è normale c'è sempre gente che punta il dito magari che erosica ma poi c'è appunto essendo sui social c'è il momento dove è il suo momento e deve sfruttare il suo c'è il momento che è il mio momento cioè tutto così cioè quando sei sulla cresta dell'onda devi essere bravo tu a cavalcare esatto poi la cosa che va a nostro vantaggio è che se andiamo in una casa ci supportiamo a vicenda magari il mio momento io porto con me lui in alto con me poi quando magari io calo perché alla fine sono una cosa non vai cioè sali e scendi sempre ed è difficile stare infatti una domanda che mi faccio sempre adesso siete giovani quindi magari non pensate a 20 anni quale sarà il mio lavoro o quello che vorrò fare ma una volta che finisce il percorso di TikTok e magari vi trovate a 30 anni come farete a vivere? che poi non è detto fai conto che tipo io da quando sono bambino seguivo tantissimo Mike Shosha e lui adesso ha più di 30 anni e continua a fare il content creator cioè quindi nel senso se uno ha veramente la passione io penso che se non hai passione non arrivi a 30 anni a fare video quindi non mi escludo niente cioè io a 30 anni ti dico vorrei vedermi come conduttore sportivo che ma se vedo che è una cosa che mi piace tanto stare sul web o che non ti dico cavolo no no fare uno youtuber a 30 anni no cioè se è una cosa che a me piace faccio con passione e comunque posso viverci perché no e i guadagni principali arrivano dalle sponsor? sì allora se uno fa lo youtuber seriamente vabbè youtube paga bene come piattaforma però sì tendenzialmente le campagne pubblicitarie sono l'entrata principale perché in sé tiktok paga niente non paga zero mentre twitch e youtube ecco twitch e youtube se le fai seriamente hai delle belle entrate della piattaforma twitch cosa ne pensi ti piace? allora io lo dico sempre anche lui lo sa perché io quest'anno in inverno streamavo e andava benissimo però io stare davanti chiuso chiuso in uno stanzino davanti a uno schermo a parlare un'ora e mezza due ore stacco perché non ce la faccio più c'è chi fa anche otto ore di fila sì sì ma infatti nel senso non è facile chi fa lo streamer cavolo io ne ho conosciuti tanti di streamer fuori dallo stanzino chi fa proprio lo streamer h24 fighi sembra che vive su un altro pianeta però panetti ci parlava insieme a naaska e gli altri che quando finivano di far live panetti e omiatol si mettevano sul divano in silenzio al telefono perché avevano parlato fin troppo quindi erano vivi in un mondo parallelo sì 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 però devi avere una costanza che è impressionante io infatti ammiro tantissimo vabbè tipo blur il mio siamo in due siamo due fan il Tokus lo stimo un sacco ma ha una capacità di intrattenimento che è spaventosa cioè stare otto nove ore tutti i giorni in live magari aveva senso appunto in quarantena perché eravano tutti a casa quindi intratteneva la gente cioè era anche qualcosa per alleggerire il momento esattamente però adesso che sono tutti liberi mamma mia in estate se io penso cavolo voglio uscire voglio andare fuori con i miei amici stare lì dalle nove di sera alle tre di notte mamma mia ora ritornando a blur più che altro è visto anche male dagli altri perché può essere quello che bestemmia quelli che non capiscono poi alla fine secondo me cioè per me è così penso anche per gli altri il fatto che te entri ti intrattiene ti fa ridere cioè senza senso è una nuova televisione te a mezzanotte stanco morto arrivi nel letto e dici vabbè guarda cosa fai ti tiene lì fino alle sei cioè mi dice io un talento cazzo è un talento intrattenere ma infatti tutti dicono andate a lavorare così fighi vorrei vedere cavolo intratieni tu bravo 30.000 persone in contemporanea cioè che l'unico modo per tenerle lì è davvero fare ridere fare qualcosa che gli piace il problema è che io non ce la farei 8 ore a parlare chi riuscirebbe a tenere sempre alta quella infatti quello che dico sempre Blur è uno cioè non a caso è il numero uno della piattaforma trovami un'altra persona in Italia che ti arriva a intrattenere 30.000 persone in contemporanea per più di 8 ore cioè devi essere un fenomeno generazionale cioè perché dici ok ogni tanto è volgare la bestemmia così però devi essere un fenomeno generazionale perché se è uno su 60 milioni 70 milioni ci sarà un motivo questo magari non lo capiscono non me lo capiranno le persone poi uno nel senso può non apprezzarlo può apprezzarlo così però sono proprio i numeri che parlano certo mentre tornando al discorso di prima i dissing nel mondo social come come vanno gestiti perché magari esporti e rispondere a una persona ti può anche rovinare in un certo in un certo modo ti può arrivare la community dell'altra persona che è iniziata una shitstorm assurda sono dell'idea che in questi casi il silenzio sia la risposta migliore uno pensa se stai esattamente o che fai qualcosa ma sei intorto però se fai qualcosa di sbagliato te ne prendi a meno che non ti accusa non risponde però se qualcuno è invidioso di te ti vuole stuzzicare provocare così vuol dire che stai facendo la cosa giusta se non parlano di te è il problema finché parlano di te finché sono invidiosi se sono invidiosi vuol dire che c'è qualcosa che non hanno quindi la cosa migliore per affrontare un dissing è farsi scivolare le cose addosso diciamo ma invece se questo dissing arriva a un ragazzino di 15 anni perché comunque ci sono e magari rimane un po' rimane deluso cosa può scatenarsi lui secondo voi mentalmente se arriva veramente un dissing pesante mentalmente deve essere tanto forte c'è chi può davvero cadere depressione ne ho visti di creator piangere soffrire per accuse e siete mai stati voi stessi al centro di qualche dissing o qualche shitstorm pesante? per fortuna no io fortunatamente essendo sui social da un anno effettivamente per ora no ma comunque speriamo di no dato che siamo in chiusura a noi piace fare sempre questa domanda c'è la Tobia che non c'è in questa puntata un saluto che è dietro le quinte qual è stato il momento se c'è stato nella tua vita dove ti sei guardato allo specchio e detto ce l'ho fatta ma il ce l'ho fatta è tipo cazzo sto facendo qualcosa di giusto ho raggiunto uno dei traguardi non il traguardo finale ma ho raggiunto uno dei traguardi che mi ero prefissato o che non mi aspettavo avesse raggiungere cioè non mi aspettavo di raggiungere allora io ma lo dico sinceramente infatti non a caso è la mia prima foto sul profilo Instagram ho tolto tipo tutte le foto che ho su Instagram prima di quella foto perché quella foto è un po' il mio inizio reale di far vedere Luca Campolunghi sul web perché magari prima facevo tanti video così ma la mia passione è sempre stato lo sport il calcio quando ho vinto il pallone d'oro nel 2022 infatti ho fatto la foto su Instagram col pallone d'oro lì è stato perché lì ho detto cavolo ma perché non posso far vedere alla gente qual è la mia passione e da lì ho iniziato il mio profilo Instagram c'è un feed tutto sportivo purtroppo ogni tanto c'è la foto con la fidanzata lì è stato proprio pallone d'oro è stata la svolta perché ho detto cavolo voglio far vedere veramente Luca Campolunghi proprio la persona che è Luca Campolunghi e le sue passioni infatti ce l'ho fatta mai perché il ce l'ho fatta vorrei arrivare quando nasce mio figlio e sono la persona più felice lì dico ce l'ho fatta Lucchino Campolunghi lì è stato il momento dove ho svoltato ed ero comunque fiero di quello che stavo facendo allora io essendo fresco diciamo in questo mondo sicuramente il ce l'ho fatta non è presto di più io penso ce l'ho fatta lo vorrò dire fa 10 anni secondo me però comunque sono fierissimo di quello che sto facendo adesso perché passare dalla mia camera dove faccio i video in bagno li faccio ancora con la muffa tipo dietro e comunque a vedere l'affetto di milioni di persone nei DM sotto i video è tanta roba infatti sono grato di questo però secondo me il ce l'ho fatta arriverà spero tra un bel po' di anni esatto il ce l'ho fatta è messi quando alza la coppa del mondo io lo vedo così il ce l'ho fatta infatti il ce l'ho fatta era come un sto facendo bene magari cavolo quanto avrei voluto quanto mi piacerebbe fare un video che va virale cazzo va virale però ce l'ho fatta sai quando ho detto io veramente ce l'ho fatta fino al 18 dicembre 2022 ho visto Messi dal vivo alzare la coppa del mondo e me lo sono tatuato su un polpaccio lì ho detto ce l'ho fatta ho vissuto l'esperienza l'ultima partita del mondiale di Messi in quel senso la coppa del mondo esperienza più bella della mia vita a mani bassi ho pianto dal pre partita fino al giorno dopo pelle d'oca alta così solo chi la vive la può capire mamma mia infatti un saluto un saluto a Messi che sicuro starà guardando questo podcast se vuoi mandaci un video saluto se vuoi venire qui se vuoi venire con la coppa poi immagino tipo una photoshopata che mi ha essi lui lì sei qua col filtro in mente quello che mette la faccia di Messi quello che andava se vuoi venire qui per fare una chiacchierata che mira che mira che mira va bene allora grazie mille per essere stati qui con noi spero vi siate trovati bene e noi come sempre ci becchiamo in un prossimo video di Idea Zero Grazie a tutti Grazie a tutti